La terra da lontano appare bella, azzurra, silenziosa, ma non è così. Siamo cresciuti vedendo in tv film che proponevano questo scenario. Non avrei mai pensato che prima o poi sarebbe diventato realtà. Il governo ha deciso di... ...pravительство ha deciso di... ...e il governo ha deciso di... ...dirighiamo un nuovo DPCM. Da domani siamo in lockdown. We are in lockdown. A morire in lockdown. Come va? Capisco. Anche io sono a casa, in smart working. Sì, ma scusi, ora non può trovarsi più di 200 metri da casa. Eh, se no la multa non è venuta lei. Qui c'è la mascherina e i guanti. Benissimo. Eh sì, però mamma, attaccia la mascherina. Eh sì. Eh, eh. Eh, c'era tanta gente, eh? Sì, tantissima. Arrivava fin fuori nel parcheggio dietro la cola. E adesso dovrò accendere il computer e guardare se mi hanno risposto alle mail che avevo inviato. Bisogna vedere anche se sinceramente penso che per un bel pezzo dovrò restare a casa. In giù, ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Quest'oggi vi porterò lontano dalle vostre case. Oggi vi farò vedere una fantastica e alternativa giornata a Londra. Genera il virus, genera anche l'ora, ma non il virus. E era più, più semplici. Genera il virus, genera anche l'ora. Genera il virus, genera anche l'ora.